Ciao da Fatina Biricchina e Spinky Picchio stiamo per aprire le nostre due uova Kinder Gran Sorpresa e Kinder Gran Sorpresa Maxi allora il Gran Sorpresa è di Cattivissimo Me mentre il Gran Sorpresa Maxi è delle Tartaloupe Ninja quale vuoi aprire per prima? bene allora prendi e vediamo tutto vediamo 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 che sorpresa c'è lo scotch o c'è il nastrino? lo scotch forse però secondo me se stiliamo da qua lo scotch si apre prova a tirare la carta guarda tira di là tira la carta di là hai visto? ok come apriamo un metodo pugno o karate? è già aperto un po' è già aperto allora lo apriamo così e vediamo la sorpresa e vediamo la sorpresa ce la possiamo fare? che povero Spinky che povero Spinky aspetta tieni tieni questo ok da 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 si aprirà ce l'abbiamo quasi fatta è difficilissimo aprire quest'uovo ma quasi quasi ci siamo ecco vai avanti tu ma ci sono mille pezzi è da saltare oh è una tartaruga ninja da costruire questo vediamo cosa abbiamo trovato quello dello scafo ah ecco e allora io direi di montarlo e dopo ritorniamo ecco qui la nostra tartaruga ninja montata vai Spinky fai vedere guardate un po' wiii e anche le scalette andare giù anche dall'altra parte dalle scalette no oh abbiamo perso un braccio guardate bene io direi che possiamo aprire anche quello dei minions vai vai Spinky cartoncino oh vai vai tira 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 di là si apre con lo scopo ah con lo scopo prima come hai fatto? ma c'era un po' aperto tira tiriamo? o dobbiamo prendere la forbice no prendiamo la forbice tieni aspetta arriviamo su ok scotch tagliato siamo pronti tira aspetta pugno bravissimo speriamo che questo si apra prima facciamo cambio dai tieni qua vediamo se riusciamo ah questo si ecco qua cos'era? un mignone la faccia di Agnes ma che bello e questo cos'è? è l'unicorno di vestita di unicorno bello ah ma questo è un'aperta ma non è servita la forbice questo invece è lui dove si mette che cos'è quello? ma non c'è il foglietto si che c'è guarda così va lui ha l'elmetto lo scudo e la spada lei invece è vestita da fatina a cavallo del suo unicorno ma non mi piace l'unicorno così guarda è più bello quello del foglietto ma ma spinghi spinghi furbetto mangia un pezzo di uovo un pezzo di uovo di nascosto andiamo a sistemare anche questo gioco e poi ritorniamo e poi torniamo eccoli qua allora sono Agnes e lui chi è? Bob? forse forse Bob con l'elmetto o Mel e poi qua sotto hanno il colore per colorare sono dei piccoli pastelli a cera lui rosso e lei verde eccoli qui allora questo è lo sfondo con il mostro drago il castello ed è esattamente questo qui promosso bocciato questo gioco? si promosso dai sono bellini comunque lui può togliere l'armatura il casco qua e l'elmo aiuto fai qualcosa spinghi spinghi niente spinghi non mi aiuta perché è intento a fregare cioccolata e stasera mal di pancia che bello e qua volevo fare vedere com'era il lui senza l'elmetto glielo puoi togliere per favore eccolo qua vedete? qua c'è il suo piedistallo e qua c'è il suo elmo da che parte si metteva? così ecco e qui c'è Agnes bene bene allora questo video è terminato noi abbiamo aperto le nostre due uova di Pasqua della Kinder Sorpresa e che dire magari da Pasqua apriremo ancora qualcos'altro è che a spinghi piacciono solo i Kinder Sorpresa vero? solo le uova della Kinder e allora niente Fatina Birichina e vi salutano ciao ciao e alla prossima ciao ciao ciao